Con una grande festa Isola del Gran Sasso si sono concluse le alpinie di estive 2022 che l'Associazione Nazionale Alpini ha scelto di portare quest'anno all'Aquila. Si è trattato della terza edizione della competizione estiva riservata ad atleti alpini che ha previsto quattro giorni di gare e manifestazioni dal 16 giugno. Oltre 2.000 atleti e anche tanti momenti di convivialità e incontro in una città che agli alpini deve molto, occasione per rinsaldare quell'amicizia resa ancora più forte dal sostegno dato da tanti volontari dell'ANA durante il terremoto agli aquilani. Le gare sono state appassionanti, hanno toccato i territori dell'Aquila e le sue bellezze. All'Aquila c'è stata pure la cerimonia di apertura con la sfilata iniziale e l'accensione della fiaccola davanti alla Basilica di San Bernardino. Poi Fossa, dove gli alpini dell'ANA costruirono un villaggio di accoglienza nel doposisma per gli sfollati, Rocca di Mezzo e Isola del Gran Sasso per il gran finale. La staffetta in montagna all'ombra del Gran Sasso in 7 km di percorso ha visto trionfare la squadra dell'ANA di Bergamo, ma a prevalere sono stati soprattutto l'amicizia, la lealtà, lo stare insieme in quattro giorni che hanno riempito di penne nere la città e i paesi limitrofi. Era presente il presidente nazionale dell'ANA, Sebastiano Favero, amico della città, con una grande organizzazione impeccabile da parte della sezione Abruzzi. Mi pare di essere tornato a quello che è stata la donata dell'Aquila, certamente in modo più contenuto, ma ho visto per le strade e la gente l'entusiasmo, la partecipazione e l'entusiasmo anche dei nostri atleti. L'Abruzzo è una zona di alpini, è una sezione importante, sono 10.500, ma soprattutto è il popolo abruzzese che vuole essere alpino. E come diceva il presidente nazionale, ovunque andiamo ci apprezzano e ci stimano.